Rossignol Black Ops Sender TI è uno sci adatto a chi ama sciare in velocità in neve fresca con un raggio di 18 metri 104 millimetri al centro nella lunghezza di 180 centimetri costruzione con anima in legno di pioppo certificato rinforzi in titanal e carbonio damp tech e tecnologia LCT gli sci hanno un profilo rocker Rossignol Black Ops 108 sotto il piede per un 181 di lunghezza l'unica pecca che mi sarebbe piaciuto provare il 185 o il 188 e che dire il livello è alto il livello è alto è uno sci veramente da freeride bisogna avere le gambe e il pelo per spingerlo perché ti regala quello che quello che vuoi che vuoi regalarti tu quindi consigliato a chi ha voglia di esagerare uno sci che ma meravigliato ma stupito molto facile intuitivo polivalente si può usare ovunque e molto buono in fase di cambio curva agile reattivo direi uno sci ideale sia a chi si avvicina al freeride ma anche a sciatori freerider esperti sia pubblico maschile che femminile uno sci che ma ma soddisfatto uno sci da comprare la neve era molto bella diciamo fresca powder è uno sci adatto a chi si vuole avvicinare al mondo del freeride è molto intuitivo e anche molto galleggiante sicuramente uno sci adatto a un maggior pubblico diciamo non di alto livello ma più piuttosto intorno al medio è uno sci che si comporta molto bene sui cambi di neve avendo la punta un pochino più morbida rispetto alla coda però sicuramente uno sci più da diciamo fase adolescenziale da divertimento e non da grandi cime insomma sci davvero davvero bello con inserti in titan anche lo rendono veramente reattivo rigido al punto giusto ma non troppo impegnativo infatti adatto anche un pubblico non troppo esperto purché sia ben allenato adatto anche per gare di freeride magari nelle lunghezze superiori ottimo sci maneggevole intuitivo risponde molto bene ai comandi e uno sci che è morbido sia in coda che in spatola quindi non richiede così tanta forza è uno sci che mi sentirei di consigliare un po' tutti